Musica E' bene a tutti ragazzi, P-Wolf, Jacopo Mi, Mina di gioco Vediamo un attimo le conquiste, mancano, allora manca sto coso qua che è quello che credo che dobbiamo prendere E poi non l'ha in coso bloccato Mancano un po' di roba, naturalmente, ah no, ecco, allora vediamo Ah no, solo quando li raggiungiamo, li possiamo raggiungere No, comunque ragazzi, a questo punto Vaffanculo, non ci dice cosa che dobbiamo fare Vabbè, insomma, comunque non ci sono poi così tanti obiettivi da sbloccare No, comunque adesso vabbè, continuiamo naturalmente la nostra esplorazione Poi adesso stavamo parlando, non torneremo indietro, scaveremo una galleria parallela che ci porterà su Si spera, allora, vogliamo fare un test perché io non ci ho mai provato Secondo voi, secondo voi, riusciamo a rompere il lapislazuli dato che non possiamo costruirci una spada o qualcosa Per perché non abbiamo altra legna Con i blocchi di ferro, come se fosse un piccone Si sta rompendo Si, però bisogna vedere se ce lo dà Casomai abbiamo buttato via un lapislazuli, vabbè Forse non sono lapislazuli, forse è diamante Cazzo è diamante? Non ce lo dà Abbiamo perso il blocco di diamante Mi sto incazzando No, quindi a questo punto direi di tornare su Non è che abbiamo No Spada di pietra No, niente Non abbiamo niente Allora, no, scendiamo un attimino per dare un'occhiata Così se moriamo moriamo subito Perché? Scendiamo un attimino a dare un'occhiata Per vedere cosa c'è sotto Allora Qua l'ave... Cazzo Tenersi sempre lontani dalle fessure Allora, già che ci siamo Ecco, giusto Già che ci siamo Chiudiamo sto buco che mi fa paura Tutto il gioco Da tutto il gioco Ora quando l'abbiamo trovato Un po' come realistico Minecraft Si Allora Facciamo Sta scaletta che scende Comunque io sono convinto Che abbiamo capito Cos'è che ci fanno poi i mostri Cosa fanno? Ballo del quadretto Ah, sì Del cubetto Vi ho già detto questo Del video che l'abbiamo caricato Perché la gav Ah, giusto, giusto Allora Ah, pensavo fosse uno scheletro Allora, qua abbiamo Un mare di lava, minchia Lo chiudiamo tutto? Chiudiamo il mare di lava Ci proviamo Così magari poi possiamo attraversarlo E andare dall'altra parte Che è come use Si, attraversiamo la lava Ok, abbiamo fatto una scaletta Che scende Stando attenti Potete ricoprire tutto Con i nostri cubi di pietra Che tanto Non ci serve Per raggiungere Diamante Allora E questa qui è Come si Un sidiano La pietra che non si distrugge con niente Se non che col diamante Se viene uno scheletro E mi prende da dietro Ci siamo fregati Allora Io non ci sto capendo Perché è tutto sballato È tutto sballato È tutto sballato Eh, non vedi che non metti i cubetti dove c'è la freccia Ah, ma perché Ho capito Perché non può mettere la mano in la lava C'è ragione Eh, bisogna andare Così A zig zag Trovare un lago di lava qua sotto È la fortuna più grande Che si possa avere Cioè Se proprio Non abbiamo più piccoli Alla fine Ce ne A parte che ce ne possiamo fabbricare uno Tanto i tavoli a lavoro Un po' in giro per la miniera Ci sono Lo sparsi Soltanto uno Un paio No, vabbè Se chiediamo, cerchiamo, ce ne almeno uno, dai Che è sta roba? Altro diamante 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 Cazzo, va che culo Un'altra grotta Oh, ma è grande sto posto Cioè, praticamente stiamo facendo Mi hanno fatto 40.000 video Sì, tanto per sta roba qua Quanto è il... Ma no, se è 26 Intanto questa parte qua la tagliamo Sì, giusto Poi la parte che non serve La velocizziamo Che culo Che culo Che culo Che culo Che culo Che culo Che non ci sono passato sotto Prima che iniziasse a cadere Allora Copriamo il buco Dov'è che è? No, quasi quasi Faccio una scala Giusto Naturalmente è sparita Facciamo una scala Che sale Sarce Sarce No, allora Non mi piace così Facciamo così E facciamo così E mettiamo una torcia qua Stiamo finendo pure le 60 torce che avevamo Questo buco qua Non me lo ricordo Ah, ma qui è quando... Ti ricordi quando l'avevamo trovata sotto? C'è questa Infatti mi ricordo qualcosa Forse siamo vicini alla superficie Per salire in casa nostra Oh, se non riusciamo più a risalire Tipo... Cioè Mettiamo la mod La minimappa apposta per risalire E abbiamo faccia Prima o poi riusciamo a metterla Sì, no Poi tanto velocizziamo il tutto Facendo vedere le nostre scoperte Che abbiamo fatto man mano E velocizziamo tutto il resto Poi di quello di Sina Pupparei Eh, non farò tutto io Devi lavorare, schiavo Ok, allora Qua abbiamo la nostra stratosferica Stratosferici diamanti Come abbiamo scoperto Sto posto che io non capisco Che due colpo Come ha fatto a formarsi? Non si sa Qua è esploso un creeper Incazzato nero No, qua Sono stati Qua è una famiglia di creeper Magari scopri Questa qua è una vecchia città dei creeper Sì Poi ho avuto il nomino Michelin Cosa c'è Cosa c'è Il nomino Michelin Il nomino Michelin Se impatti ci fa in cedi Secondo me Qua troviamo di sicuro Qualche mostro Scusa Carbone Ho visto, ho visto Tanto sto salendo Anche il ferro Madonna Il ferro Questa miniera qua Si dimostra sempre più prospera Sì Ma devo anche andare a raccoglierlo Oro Che giustamente non possiamo raccogliere No Per ora sono ferro Ma cacca qua Non me lo ricordavo sto buco Non lo abbiamo scavato adesso Piazziamo una torcia anche qua Quindi c'è carbone Ferro Tutto Ma si Poi quando torniamo giù in miniera Con tutti gli strumenti Facciamo una strage Qua lento Ferro Carbone Lava Ah no niente lava per ora Ho fatto una cazzata Aspetta questa qua è giardia Si Che culo Siamo in una brutta situazione Che culo che c'era sotto qualcosa Si è tornati indietro Stai girando in tondo Contro l'oro Ma quanti minerali che abbiamo scoperto in sto posto Un altro posto che non sappiamo No ma sto qua si è tornato indietro Qua se non sbaglio Ah giusto 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 Si è tornato indietro No ma aspetta Mi sa che c'è ancora del ferro Lo so lo so Allora qua ci siamo già stati Questo qua si è tornato indietro Stiamo facendo un giro in tondo Ottimo Perché così finiamo Finiamo di esplorare tutto Carbone Abbiamo una scorta di carbone A vita Eh ma se vuoi fare una miniera Ti serve Ottimo Adesso poi considerare Che quando A meno Quando adesso Dobbiamo tornare su Ci occupiamo un po' della farba Così almeno si appare Anche non ci annoiamo Sì perché effettivamente È un po' una palla Sta cosa Mi aspettavo una miniera Un po' più divertente Fatta come la faccio Di solito io Io faccio le miniere Del divertimento Adesso se il buco è dentro La labia e il buco Non riesco più a uscire Allora Chiudiamo Pietrisco Guarda che di certo Carbono Lo so Visto Questo posto qua È pieno di carbone È la prima legge di Minecraft Secondo la prima legge di Minecraft La cosa che troverai Simples È la cosa che ti serve di meno Sì infatti Il carbone Oltre che Per fare Le cose Ne torce Non serve No beh se lo puoi bruciare Posso nella legna Sì giusto Risparmi legna Stanno finendo i picconi Abbiamo ancora due picconi Vabbè ma poi tanto Ho cambiato idea Quasi quasi non risaliamo più Facciamo Torniamo Torniamo di sopra Sì ma risaliamo col tunnel Altro oro Secondo me è lo stesso No è lo stesso Come fai a sapere Poi salire È lo stesso Lo so Ho visto Ottimo No ma guarda che dice Del ferro Prendi ferro Un attimo Una cosa per volta Ok Vabbè giusto Stiamo scavando sotto Quindi Mi pare logico Che Stai girando intorno Ok Adesso Richiudiamo il tutto No Lasciamolo così No scusa Mi dirà che si rispetti Non si può Lasciarla così C'è del carbone Che due questioni No Allora Ma tratta di non richiuderla Ci serve tutto No ma ci serve Tutto questo pietrisco qua Per coprire la cosa Sto tranquillo Io ho sempre Una risposta pronta Io consiglio No Facciamo una cosa Facciamo l'insieme Le scene più divertenti Allora Pietrisco Non capisco proprio niente Stai tra Mi guarda che sopra C'è del ferro Sì Sì No già Ecco Cosa che serviva Ecco perché dovevo Richiuderlo Mi pareva che ci fosse Un motivo Dov'è che lo vedi il ferro Di sotto Ah si Adesso non troviamo più la lava No l'ho trovata L'ho trovata Scherzato Allora Qua abbiamo tutta la nostra Special Questa cosa qua Non so Niente l'ho messo Ah adesso ricordo Sì E' la stessa cosa Allora Togliamoci da sotto Togliamoci da sotto Ah proprio quanto ferro Ok Per essere indecisi Ok Allora Qui Non ci sto Ah Qui era dove c'era la lava Giusto? Sì Allora Un secondino Prima diamo un'occhiatina Abbiamo già un'occhiatina Non di una spada No ma va Un ferro Ferro E Pietrisco Mettiamo una torcetta Altro ferro Sì Propongo già che ci siamo Di scavare Per vedere se ne troviamo altro Infatti Io ho sempre raggiunto Adesso smucchiamo Sotto Viva la lava Ok Allora Richiudiamo il buco Wolf si sta incazzando Facciamo così 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 Ok Adesso Piantiamo un paio di torcette E andiamo a ispezionare Il nostro nuovo mondo Che poi in realtà È sempre lo stesso Però vabbè Facciamo un po' Qua Facciamo il buco Secondo me No Qua è una città di Tain Per sicuro Oh Allora Qua L'acqua si può togliere tranquillamente Non è come la lava Sì La cosa migliore Se ne è stata Se dice Forse è stata dell'acqua E non della lava Sì E qua la lava Era più facile da chiudere E non si espandeva così Allora C'è Piantiamo un paio di torcette Entriamo nell'acqua E andiamo a chiudere Sta buca qua Io odio l'acqua Quasi non vuole mai nuotare Ma ma ecco perché Allora Torce Vaffanculo Ma qua ci serve Qualcone Minchia ma la luvia è entrata Tutta stacca Ecco Li saliamo così Che è più comodo Ok Ancora Secondo me è qua Aspetta Ah Inizio ad avere fame Eccola qua Sì o ma Ah No 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 Dove cazzo Ah ok ho capito Sono tornato esattamente Dove ero prima Diciamo prima a far così Non sono mai stato bravo A mutare nell'acqua Ferro Deve so già che Una volta che diciamo Ferro Ci scrive un messaggio Del tipo Non è una novità Che ci sia del ferro Ti immagini Se entrava Altra acqua Ok Mi arrabbiamo Veramente Non chiudiamo Tanto qua Non risaliamo più Tutto pietrisco Guadagnato Ecco Poi si rimedi No Ah giusto Ma quanto è alta Sta cosa Allora Continuiamo a farci La scala di pietrisco Tanto poi Voglio vederne Accendere Ah ok Ottimo Ci dovremmo quasi essere Spiro Ormai siamo quasi in superficie Siamo a 35 Appunto Siamo quasi in superficie Ok ragazzi Questa qua è la prima parte Quindi la domanda per la prossima Sarà se ce la faremo Ad uscire Da questa grotta A tornare a casa nostra Che ormai è dispersa E a scoprire La famiglia di Creeper Che ha dato origine A tutto questo Posto straordinario Ci vediamo Alla prossima Questa 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 è la prima parte Questa è la prima parte Grazie a tutti.